Salve a tutti cari amici e cari amiche, ben ritrovati lungo la via dei simboli. Ci siamo addentrati nel mese di giugno per cui ho pensato di parlarvi di un luogo della Maremma Toscana dove in questo mese avviene un evento molto particolare. L'evento è legato al sostizio d'estate e il luogo è il Duomo di San Pietro a Sovana, l'antica Suama Etrusca. Cosa avviene all'alba del sostizio d'estate all'interno del Duomo di Sovana? Il raggio di luce, il primo raggio di luce che entra dall'unica monofora posta nella chiesa, invade la navata della chiesa e va a illuminare la parete di fondo. Questo avviene perché il Duomo di Sovana, fulgido esempio di transizione romanico-gotica, è stato edificato secondo le divine proporzioni. Come andiamo a visitarlo? Ci sentiamo bene, sentiamo che siamo in un luogo armonico. I saggi costruttori del Medioevo hanno edificato perché ciò avvenisse, perché avvenisse questo miracolo del sole, perché rendesse metaforicamente fertile la madre contenitore chiesa, forse alla maniera di antichi riti solari e acquei, perché forse il Duomo di Sovana fu edificato su un preesistente luogo di culto, probabilmente una pieve titolata a Giovanni il Battista, quindi sempre collegato al culto delle acque. Ma poi probabilmente qui ce lo spiega molto bene Giovanni Feo è sorto nei pressi un tempio, forse sacro alla dea Urcla, che poi fu latinizzata in Fortuna e quindi questo luogo era sacro fin da tempi antichissimi. Io mi sono occupata del Duomo di Sovana prevalentemente all'inizio riguardo ai simboli, simboli numerosissimi che sono presenti nel bellissimo portale laterale dove possiamo riconoscere la sirena bicaudata, fiori della vita, un cavariere guerriero, ma anche raffigurazioni molto interessanti come un piccolo uomo con le mani alzate che ascende l'arco che sovrasta all'architrave del portale e che viene chiamato spesso orante ed è presente in molte i pievi della Toscana come anche la sirena stessa delle pievi. Un rimando anch'essi a dei riti e a dei culti arcaici che fanno riferimento alla sacralità della terra, alle forze della natura e alla sacralità delle acque. Ma vi è molto di più perché la divina proporzione con cui è stato progettato l'edificio nel medioevo, quindi ciò che noi vediamo adesso quando ci richiamo all'interno dell'edificio. La divina proporzione, la geometria armonica racchiude una cosa molto interessante. Nel lavorare sulla planimetria mi accorsi che l'area della cripta poteva contenere un fiore della vita e nel prendere in considerazione tutta la struttura geometrica della chiesa, quindi l'edificio nella sua planimetria, mi accorsi di un fatto interessante, di una coincidenza interessante che riportai su carta e che adesso è presente, grazie all'amministrazione locale, nel tabellone esplicativo che si trova all'esterno della chiesa. Vi faccio vedere cosa ho ritrovato. Questa è la planimetria della chiesa, questa è l'area della cripta che poi comprende l'altare e l'abside e mi sono accorta appunto che per tutta la lunghezza la chiesa comprende ben sette fiori della vita intersecati l'uno con l'altro che vanno a toccarsi uno nel centro dell'altro a formare sette interessanti punti che mi rimandano ai chakra, ai sette punti energetici ma anche alla magia del sette come Murriop per esempio spiega nel segreto di Sirio che alla pagina 153 dice che il numero sette aveva assoluta prevalenza fin da templi egizi. Spesso comparivano corde con sette nodi dato che il sette aveva connotazioni mistiche e poi Murriop cita appunto Christian Jacques che a sua volta si riferisce al papiro magico di Leida dove il numero sette compare ovunque sette mattoni sette forme di pane sette blocchi di sale incantesimi che dovevano essere ripetuti sette volte quindi un numero sette riferito alla magia alla consacrazione alla stabilità e alla prosperità per cui questo fatto per me fu così interessante che io pensai di inserirlo in un articolo presente nel web che ancora è presente nel web e che inserisco nella descrizione di questo video e poi appunto la riproduzione la ricostruzione adesso si trova proprio in questo tabellone esplicativo all'esterno del della chiesa che veramente vi invito a visitare perché è un luogo veramente molto particolare sempre parlando di di geometria armonica come è possibile tutto questo beh è possibile perché i maestri costruttori facevano uso di strumenti molto interessanti che semplificavano anche tutti i calcoli che prevedevano numeri irrazionali e questo fatto ce l'hanno lasciato scritto proprio nella chiesa come è successo con pieve di lamula dove è presente il piede il piede prosceno la misura del costruttore questo questo simbolo questo graffito che si trova su una colonna laterale all'ingresso della chiesa e che ci dice che la chiesa è stata edificata utilizzando quella misura di costruzione cioè 30,5 il piede prosceno una misura molto vicina al piede tolemaico così anche nel duomo di sovana è presente una cosa analoga sul fonte battesimale che si trova attualmente appena entrati all'interno della chiesa sulla destra vi sono diversi simboli tra questi simboli ho riconosciuto la squadra occhiellata ad ipotenusa mobile vi sono molti saggi che parlano di tecniche di costruzione tecniche murarie di costruzione medievale che fanno riferimento proprio all'aspetto tecnico che così apparentemente avrebbe poco a che vedere con la spiritualità ma che invece ha moltissimo a che vedere con la spiritualità perché è riferita all'interno di noi stessi proprio in questi tra questi saggi ve ne sono alcuni in particolare che fanno riferimento a squadre ad ipotenusa mobile squadre che hanno le due braccia ovviamente realizzate in materiale tipo legno che sono poi che vanno a finire o a coda di rondine o occhiellate questo per permettere di tendere una corda tra i due bracci della squadra ovviamente l'ipotenusa è un numero irrazionale quindi gli antichi costruttori si sarebbero ritrovati questo segmento di corda che senza fare calcoli matematici astrusi avrebbe potuto permettere la misurazione armonica non solo delle costruzioni che andavano a realizzare ma anche di tutti quelli apparati plastico decorativi come lo scolpire capitelli perché tramite questo segmento potevano realizzare armonicamente l'edificio e proprio nel fonte battesimale del duomo di sovana si trova una squadra occhiellata una squadra ad ipotenusa mobile e immagino anche che in qualche maniera i bracci pur essendo scolpita ovviamente quindi essendo una realizzazione ad immagine dello strumento che loro stavano realizzando immagino che magari in origine i due bracci fossero in proporzione aurea e quindi sovrintendessero entrambi in proporzione al numero aureo 1,618 eccetera eccetera per cui così avrebbero potuto tramite semplici strumenti realizzare armonicamente senza fare calcoli complicati e così veramente ci hanno lasciato una importante sapienza